Dunque, Architetto Gardelli, in termini proprio tecnici e pratici, cosa farete nella cosiddetta Dacia? Il nostro intento è quello di procedere alla redazione del piano della protezione civile, che è il piano che serve appunto a dare un senso alla prevenzione rispetto agli eventi che purtroppo ciclicamente succedono. Ci sono quindi molti aggiornamenti di cui voi terete conto e su cui imposterete i piani formativi? Certamente, diciamo che purtroppo gli aggiornamenti si fanno sulla base degli eventi che sono successi. Purtroppo Varese negli ultimi tre anni è stata affonestata da due incendi molto gravi. Sulla base di questo abbiamo già redato il nuovo piano della protezione civile per quanto riguarda l'antincendio boschivo e a brevissimo procederemo anche con quello idrogeologico perché non scordiamoci che anche a Varese ci sono state esondazioni di fiumi e grossi problemi. In cosa consiste il valore aggiunto di una sede bella ma anche nuova, innovativa, che peraltro mette insieme due grandi nomi di Varesini illustri? La sede è importantissima e assieme alla sede si è formata una struttura con due tecnici che lavorano a tempo pieno per redare il piano e soprattutto per dare un senso anche a quello che sarà la cultura della protezione civile perché la prima protezione la attua il cittadino con gli strumenti di autoprotezione.